Musica Continuo le interviste di LibreTV qui al quarto compleanno di Senza del Barcode in cui è stato organizzato un dibattito sul nuovo diritto di famiglia, nuove prospettive e nuove problematiche e siamo con il professor Luca Tedesco che è professore di storia contemporanea alla terza università di Roma grazie di essere qui con noi sono stati vari temi trattati, vario genere, da un punto di vista storico è stata molto interessante anche una certa analisi che si è stata fatta un pochino sulla modifica anagrafica sociale, italiana da un punto di vista anche politico, elettorale quindi ci sono delle classi veramente individuabili anagraficamente di elettori nell'ottica ovviamente di quello che era il depauperamento cioè la denatalità che è un po' il problema anche qua ci sono varie scuole di pensiero ma comunque sia conosciuto e sentito come problema comunemente parlando il problema a cui cerca in qualche modo la ministra Lorenzin di dare risposta con il Fertility Day ecco, il professor Tedesco ci ha fatto conoscere un possibile rimedio che è quello del voto plurimo che non è una, mi piace aver capito, una invenzione di adesso è una cosa già pensata molto tempo fa ecco, di che si tratta? Sì, è una sorta di fiume carsico nella storia politica europea perché di voto plurimo già si parlò negli anni venti nell'Assemblea Nazionale Francese, figuriamoci negli anni più recenti questa discussione, questa questione del voto plurimo è stata agitata in terra tedesca recentemente l'ex consigliere politico della Merkel ha rilanciato questa idea del voto plurimo che risponde a quale esigenza? a un'esigenza di dare rappresentanza politica ai minori d'età, che devono essere considerati cittadini a tutti gli effetti non hanno rappresentanza politica e quest'idea di dare e conferire loro rappresentanza politica nasce da un'esigenza di carattere economico la popolazione europea in generale ma pensiamo alla Germania, pensiamo soprattutto all'Italia è una popolazione sempre più anziana e questa caratteristica impedisce che i governi adottino politiche di sostegno alla natalità perché ovviamente a queste politiche di sostegno alla natalità non sono interessate le fasce più anziane quindi nell'agenda politica si è imposta questa idea del voto plurimo perché nell'agenda politica tedesca ma anche in Italia se ne parla perché occorre orientare risorse verso il sostegno alla natalità ma c'è un blocco sociale quello degli anziani che a queste politiche di sostegno non sono interessate l'unico modo per cercare di incrementare le politiche di sostegno alla natalità è dare il voto ovviamente quindi ai minorenni dare il voto ai minorenni e chi potrebbe esercitare il voto in rappresentanza dei minorenni si dice ovviamente i genitori perché nessuno contesta ai genitori ovviamente il diritto di occuparsi di questioni molto importanti per i figli come la salute, come l'educazione e quindi se bisogna conferire il voto politico ai minorenni se bisogna dare, se è giusto dare, se è necessario dare rappresentanza politica ai minorenni beh questa rappresentanza non può che essere esercitata dai genitori in questo modo dando maggior peso politica ai minorenni attraverso i genitori si potrebbero orientare le risorse dagli anziani non interessate alle politiche di sostegno alla natalità per l'appunto alle politiche di questo segno e anche in Italia in Italia in verità già Rosmini se non sbaglio affrontò questo sollevò questo potrebbe da più parti anche in Italia alcuni economisti, alcuni demografi hanno lanciato l'idea di assegnare mezzo voto ai genitori cioè per ogni figlio si assegna mezzo voto a un genitore o al genitore o al tutore legale insomma in questo modo appunto per riorientare diciamo attraverso il voto politico per riorientare la distribuzione delle risorse quindi mezzo voto per figlio Beh sì potrebbe magari essere appunto una idea sempre come poi peraltro la senatrice Mussini diciamo diceva dando per scontato ammesso e non concesso io oserei dire che gli anziani in qualche modo pensino a loro stessi e non insomma ai discendenti o ai nipoti un'altra cosa interessante di cui si è parlato è di Poligamia ovviamente quale diciamo persona più indicata per parlarne che è proprio un professore di storia contemporanea ovviamente nell'ottica di nuovi scenari che si aprono con l'immigrazione di cittadini soprattutto appunto di formazione musulmana culturale e ovviamente religiosa ecco la Poligamia potrebbe diventare un diritto nel senso che il professore diciamo ha detto insomma si potrebbe arrivare a pensare anziché proibire a regolare il fenomeno legalizzandolo ecco però un po' la cosa che è emersa è che quella Poligamia almeno non so se poi ci sono vari modelli di Poligamia ma insomma quello che io ignorante conosco è quello diciamo di tipo che si pratica nel mondo musulmano islamico ha come presupposto appunto la non equità, non parità tra uomo e donna ecco allora io quello che volevo chiedere appunto al professore proprio allo storico l'osservatore e lo studioso di storia contemporanea è se una ipotetica tutela giuridica della Poligamia possa essere compatibile con l'eguaglianza uomo-donna nel senso in cui noi la conosciamo sì per quanto riguarda la capacità insomma dell'elettore anziano di guardare anche non solo ai propri interessi ma anche agli interessi delle future generazioni beh io penso insomma che i giovani, i diciottenni che votano non votano pensando agli interessi degli anziani e non penso che gli anziani votando perché poi in un paese come l'Italia in cui diciamo il senso civico l'idea del bene pubblico non sono proprie idee diciamo fortemente eradicate ma in una situazione ocula italiana in cui lo spirito corporativo lo spirito settoriale è molto forte immagino appunto che questo tipo di voto illuminato non esista ecco da tutte le parti per quanto riguarda invece il discorso sulla poligamia ma diciamo il mio intervento è nato dalla polemica sollevata da Piccardo cofondatore del Lucoi che quest'estate in agosto come dire sfruttando le unioni civili ha lanciato l'idea del riconoscimento giuridico della poligamia se la fondatezza del riconoscimento giuridico alle unioni civili nasce dal fatto che insomma due persone adulte e consenzienti devono potersi unire in matrimonio no? allora Piccardo ha detto beh ma allora perché adulti persone adulte e consenzienti non possono come dire unirsi in una poligamia e perché la poligamia non può ricevere tutela giuridica da parte diciamo dello Stato questa diciamo l'idea ovviamente lo stesso Piccardo ha precisato che lui è interessato alla poligamia secondo la rivelazione e secondo la tradizione cioè alla poliginia cioè all'unione tra un uomo e più donne appunto poliginia che è praticata in alcuni ma in verità solo in alcuni stati per l'appunto islamici quindi si è detto ma come dire Piccardo strumentalizza insomma questo ampliamento dei diritti civili per in qualche modo introdurre istituti in Italia per procedere a una islamizzazione dell'Italia no? perché? perché si dice anche ha ragione non è che in quelle realtà islamiche in cui c'è la poligamia non c'è un rapporto di uguaglianza in quel rapporto ma la poligamia si fonda su un stato di soggezione di subordinazione della donna ma se questo è vero e molto probabilmente anzi direi certamente è vero e dobbiamo anche aggiungere che queste che le unioni poligamiche di fatto ovviamente non riconosciute dallo Stato in Italia sono in incremento cioè sì secondo i più recenti studi ci sarebbero in Italia circa 20.000 unioni poligamiche di fatto non riconosciute ovviamente dallo Stato perché non vengono riconosciute non possono essere riconosciute ovviamente beh allora io mi dico ma e se ed è vero che le donne in queste unioni poligamiche probabilmente si trovano in uno stato di subordinazione di soggezione allora in qualche modo per meglio tutelarle mi domando ma è soltanto una domanda perché non ho nessuna ricetta assicura al riguardo non sarebbe proprio per cercare di attenuare questo loro rapporto di subordinazione far emergere questo fenomeno appunto sommerso nelle moschee questo fenomeno che non ha nessun riconoscimento giuridico perché far emergere diciamo questo sommerso quindi far dare riconoscimento giuridico a questo fenomeno vuol dire in qualche modo comunque fissare una serie di diritti ovviamente doveri che dovrebbero regolare per l'appunto questo fenomeno qualora si dovesse dare adesso una tutela un riconoscimento giuridico perfetto allora ringraziamo il professor tedesco che ricordiamo appunto il professore di storia contemporanea della terza università di Roma gli diamo appuntamento sul Libri TV su cui di queste cose diciamo di diritto di famiglia anche di nuovi diritti e anche del matrimonio abbiamo parlato anche qui delle unioni omosessuali dell'ultima legge che c'è stata un'ultima battuta le volevo chiedere al volo proprio qualche secondo un'opinione sul Fertility Day su questa diciamo grande schiuma mediatica che c'è stata beh se leggemo i giornali un sempre un sempre maggior numero di demografi ci dicono che questa il problema della denatalità c'è è crescente e ovviamente comporta un problema anche di sostenibilità economica probabilmente quindi questo problema c'è e deve essere trattato deve rientrare nell'agenda politica sicuramente diciamo le modalità con cui con cui il ministro cui lei faceva riferimento ha affrontato questo problema sono veramente modalità veramente diciamo infelici quindi si è forse persa un'occasione per affrontare un tema nelle sue giuste misure nella sua giusta cornice un dibattito poi come quello italiano che è un dibattito ovviamente scandalistico sostanzialmente in cui predomina la polemica politica si è appunto persa un'occasione per affrontare un tema serio in modo doveroso e però di questo di questo infelice diciamo andazzo ovviamente il ministro porta le sue le sue responsabilità grazie a Grazie a tutti.